La Falegna Maria Colangelo va ancora a caccia della prima vittoria in campionato. La Locanda Matteini invece vuole puntare ai piani alti della classifica. Benvenuti qui al Circolo Sportivo Ciriaci per la settima giornata di Serie A2. Leo cerca spazio sull'out di destra, prova a partire adesso il numero 8 in mezzo, Dei Rossi col destro, la risposta del portiere. Calcaterra riceve lui il pallone in questo momento, l'appaggio per Dei Rossi di prima che questa volta batte Di Carlo. È l'1-0 per la Locanda Matteini che si porta in avanti con Dei Rossi. Verticalizzazione dalle parti di Leo che si libera dall'avversario con un gran dribbling, poi serve Calcaterra fino in fondo. Pallone sul mancino, arriva Dei Rossi. 1-2 Fulminio del numero 7, del 2-0 per la Locanda Matteini. Attacca ancora la Locanda Matteini con Dei Rossi scatenato che entra in area. Dall'altra parte c'è Calcaterra. Troppo facile per la Locanda Matteini che firma il 3-0. Gol anche per il numero 3. La reazione della Falegnameria Colangelo che adesso va a caccia del primo gol. Stirpe, pallone sul mancino, la traversa, salva la Locanda Matteini. Cerca spazio, Calcaterra che si va a nascondere poi con il tacco. A servire Leo, pallone sul destro, guarda in mezzo, dalla parte opposta. Arriva Pera che salta un avversario, è tutto solo Pera. Arriva il 4-0 per la Locanda Matteini. Adesso si mette male per la Falegnameria Colangelo. Lancio lungo del portiere sull'out di sinistra. Adesso può distendersi la Locanda Matteini. Appoggio per Dei Rossi e si chiude il triangolo. Poi Calcaterra, arriva lui col piazzato. Il 5-0 per la Locanda Matteini, doppietta per Calcaterra. Federico, o chiamamo se sei sicuro. Altra ripartenza da parte della Locanda Matteini, Dei Rossi, è tutto solo. Prende la mira e tira e firma il suo terzo gol stasera. È il 6-0, nono gol in campionato per Mattia Dei Rossi. Ripartenza della Falegnameria Colangelo. Giusto, pallone messo in mezzo, la risposta di Violini. Poi arriva Stirpe col destro, ancora Violini, fantastico. Innesimo contropiede per la Locanda Matteini. Si stacca Leo, il pallone per lui. Leo col destro, la risposta e poi ancora Leo. Che al secondo tentativo firma il gol del 7-0 ormai. Si aspetta soltanto il fischio finale qui al circolo sportivo Ciriaci. Fase finale del match, l'appoggio ha messo in mezzo. Poi Stirpe, in qualche modo si porta avanti il pallone. Va col diagonale. Il gol della bandiera della Falegnameria Colangelo con Armando Stirpe. Probabilmente il migliore dei suoi. Adesso è 7-1 ma siamo sullo scadere del match. Fase confusa sulla tre quarti. Arriva Chiarenza però che recupera il pallone. Prende la mira, va col piazzato. Pallone sul palo. Prova a salire adesso la Locanda Matteini. Poi pallone perso in mezzo al campo ma arriva il triplice fischio del direttore di gara e finisce qui. Vittoria travolgente per la Locanda Matteini che batte 7-1 la Falegnameria Colangelo. Noi siamo una neopromossa. La partita di stasera, come dici tu, è stata abbastanza liscia. Molto corretta. La cosa che mi ha fatto molto piacere, io punto sempre a quello. La partita corretta, pochi falli, giocata. Sì, è uscita un po' fuori la qualità nostra. Abbiamo dei giocatori che fanno un po' la differenza e per quanto riguarda la partita non ci sono stati problemi. Per il proseguio noi ci proviamo. Proviamo i primi posti, almeno andare ai play-off e cercare di passare. Siamo una neopromossa. Ci sono ottime squadre. C'è il Funus, c'è l'Osteaua, c'è la Pisana che viaggia alla grande. Però ci proviamo.